Scuola finita anche al liceo Cassinari. Nell'ultimo giorno delle lezioni sono state premiate le eccellenze e sono stati presentati i progetti che hanno visto impegnati i ragazzi durante l'anno scolastico, fra questi anche quello legato al logo del Museo Libertà. Per fortuna siamo tornati a fare queste celebrazioni in presenza dopo tanti anni appunto in cui non si sono svolte e ci siamo dedicati ai vari progetti. Ogni classe ha presentato un progetto significativo che ha realizzato durante l'anno e in questa sede in particolare noi stiamo presentando il progetto Museo Libertà che è un PCTO realizzato in collaborazione con l'archivio di Stato e grazie alla fondazione Ronconi Prati che ci ha voluto coinvolgere nelle celebrazioni per i 140 anni del quotidiano di Piacenza. E quindi è un progetto che mette insieme le due anime della nostra scuola, sia il liceo appunto con il lavoro di ricerca, di stesura dei testi e quindi il lavoro d'archivio e poi il lavoro artistico creativo realizzato appunto dalle classi di grafica, scenografia e multimediale. Prima di tutto abbiamo fatto una visita al museo facendo anche molte foto in merito agli oggetti che poi saranno esposti al museo e una volta arrivati a scuola abbiamo fatto una sorta di brainstorming partendo da parole e concetti che ci richiamassero il museo, in particolar modo il Museo Libertà e unendo queste parole, questi concetti, alle immagini delle fotografie che abbiamo fatto, stilizzandole le abbiamo portate poi a rendere i loghi che abbiamo adesso scelto.